Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro ARC vi parla e per riprendere come al solito il discorso per Black Ops 3 su PC e la versione di Steam ci sono stati degli aggiornamenti riguardanti i suoi problemi direttamente da Activision e da Treyarch. Proprio nel video che avevo fatto riguardante la patch per risolvere i problemi di performance avevamo anche discusso di tutti quelli che sono i problemi di security che purtroppo affliggevano Black Ops 3 su PC e sottolineo affliggevano. Activision letteralmente il giorno che io ho pubblicato quel video ha confermato che sarebbe uscito un aggiornamento nel corso dei giorni successivi, ha detto circa la prossima settimana, per risolvere questi problemi. L'aggiornamento è quindi arrivato su Steam, pesa circa 100 MB. Fa ridere che è uscito il mio video e sembra che Activision l'abbia guardato e abbia saputo di questi problemi e appunto hanno fatto questo aggiornamento. Purtroppo questo aggiornamento ha risolto molti dei problemi che erano interessati ma tanti altri o non li ha risolti o ne ha creati altri. Non ci sono ancora delle patch notes purtroppo per sapere precisamente cosa hanno risolto ma detta di quello che era l'autore della patch Sirius che ha fatto un'occhiata come al solito facendo il reverse engineering del codice dovrebbe aver risolto la maggior parte dei problemi specialmente di sicurezza online non dovrebbe esserci più il problema che la gente ti possa entrare nel PC rubarti i dati o altre cose del genere ma permangono purtroppo altri problemi. E quindi sicuramente un passo avanti dal punto di vista della sicurezza che penso fosse il punto focale per Activision perché la problematica che ti possano entrare nel PC installarti dei virus e altre cose del genere è un buco di sicurezza non indifferente per quanto il gioco su PC non abbia un anti-cheat quindi altre problematiche sono relative. È purtroppo ancora presente il problema del poter rubare gli IP per cui se sei in lobby con qualche hacker potrebbero comunque ottenere quello e di conseguenza disconnetterti. Il fatto di poter disconnettere i giocatori anche in locale per adesso rimane ed è anche un pezzo di codice a detta di Sirius molto molto facile da ricreare per cui quelli che sono gli hacker che vogliono infastidire magari youtuber o certi player purtroppo sono ancora in grado di fare questa cosa quindi per chi vuole essere sicuro al 100.000% se vuoi giocare al multiplayer o anche in pubblica con zombie si consiglia come al solito di stare molto attenti nel peggiore dei casi utilizzare una VPN io consiglio principalmente di non giocare con le modalità online ma aspettare piuttosto il launcher esterno poi che deve arrivare al pubblico tra poco tempo. Proprio riguardante questo quello che l'autore della patch precedente che risolveva la performance e anche questi problemi di sicurezza dice che dopo questo aggiornamento tutti quanti i suoi sistemi non sono più al pari passo con questa nuova patch perché tutto quanto deve essere tra virgolette o riscritto o ricorretto e ci vorrà purtroppo molto tempo. A detta sua questo problema della performance che purtroppo ancora rimane e Treak non l'ha risolto si potrà risolvere appunto con questa patch che adesso non funziona più. E se è una cosa molto lunga l'autore Sirius ha detto che ci vorrebbe molto tempo addirittura uno o due mesi. Ha poi fortunatamente su Twitter questo è il suo profilo aggiornato dicendo che tantissime cose l'ha risolta già molto in fretta perché aveva avuto qualche intuizione. Ciò non toglie che questa patch per la performance che prima funzionava benissimo e adesso non funziona più a causa di quest'ultimo aggiornamento di Treak potrebbe farci aspettare molto tempo per cui si torna a giocare purtroppo con quei piccoli problemi di performance o anche ogni tanto grossi problemi specialmente nel menu principale che rendono il gioco molto più instabile con letteralmente dei blocchi ogni paio di secondi. Possiamo sperare che Sirius possa risolvere questo problema e sistemare la patch il prima possibile ma purtroppo è una cosa che fa ovviamente a parte nel suo tempo libero non possiamo rompergli troppo le scatole dicendo che vogliamo tutti quanti questa patch che comunque prima o poi arriverà. Quindi quello già è sicuramente un passo avanti anche se come sempre qualche altro passo indietro perché a detta di certi player su Reddit e su Steam hanno in qualche modo distrutto il sistema di matchmaking quindi non trova le partite online su multiplayer e ci sono problemi di performance ancora più gravi soltanto sul multiplayer del momento di gente anche complice da 3000€ che fa soltanto 50 FPS o meno e quello è un problema abbastanza grave. Per chi comunque fosse interessato quella specie di launcher esterno chiamato Boy che sarebbe Black Ops 3 che penso verrà collegato a X-Labs dove ci sono già MV2, Ghost e Advanced Warfare arriverà nel corso dei prossimi mesi disponibile al pubblico perché beh adesso è soltanto in accesso anticipato perché ci stanno ancora lavorando e purtroppo nuovamente con questa patch recentissima di Black Ops 3 su PC hanno in qualche modo rotto quel sistema quindi lo stanno cercando di correggere e far tornare a funzionare che comunque dà un'occhiata all'autore si chiama Momo su Twitter questo è il suo profilo sembra che tutto quanto il sistema sia praticamente funzionante e stanno facendo una specie di alpha beta testing disponibile soltanto per quelli che sono i suoi supporter su Patreon e simili che comunque ci sta. A qualco ha visto diversi screenshot e dei suoi tweet sembra che il multiplayer con anche i livelli e allo call funzioni tutto il multiplayer comunque la connessione ad altri player su zombie funzioni e anche le mod e le custom map perché quando sicuramente questo launcher sarà disponibile per tutti quanti ci farò un video a riguardo perché sono curiosissimo di provarlo ovviamente su quel launcher i problemi di performance o anche di security non sono assolutamente presenti. Qui ragazzi notizie positive e negative per i giocatori di Black Ops 3 su PC e Steam io stesso ero contento che abbiano risolto questi problemi di security per quanto a me non avessero mai toccato ma il problema al momento di performance è quello più grave perché il gioco è ovviamente giocabile non è che sia totalmente terribile ma eravamo riusciti a risolvere questo problema con questa patch non faccio un tempo a far uscire un video a riguardo per spiegare come si utilizza che tutto quanto viene tra virgolette cambiato da Activision che non faceva una patch a Black Ops 3 da tanti tanti anni perché visto che teoricamente anche alcuni mod menu alcuni oggetti del workshop e tanto altro non funzionano più perché vanno aggiornati quello dovrebbe richiedere meno tempo quindi tutto dovrebbe tornare a funzionare molto in fretta ma altri agenti esterni come Sirius, Momo e simili che fanno delle cose di coding molto più complicate ma che fanno anche effetti veramente buoni come risolvere problemi di security e di performance potrebbe invece richiedere purtroppo molto molto più tempo ma sapremo che possono arrivare il prima possibile la storia e quindi le informazioni si concludono qui come si può sapere tutte quante le vostre opinioni se siete contenti che Activision abbia fatto questo aggiornamento e abbia risolto molti di quei problemi però rompendo quelle che erano le altre soluzioni esterne che a loro teoricamente interessano il giusto perché questi coder ovviamente sono altre persone sono praticamente dei modder che fanno cose aggiuntive soltanto per la community che è comunque una cosa molto apprezzata come sempre tutte quante le informazioni e tutti i profili social sono qui sotto in descrizione se potete darci un'occhiata anche a tutte le informazioni e ci sono anche per chi è interessato i miei social Instagram, Twitch e il canale Discord ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio ala a un'occhiata a un'occhiata